Chiedete al Padre il dono dello Spirito Santo, che c'è già, ma che lo rinvigorisca, che lo ravviva. Questa divisione che c'è, avete mai provato quando prendete posizione a favore della vita, a favore della verità? Non tutti ti vengono dietro, non perché nessuno di noi è un paladino ed è perfetto, ma se dobbiamo difendere la vita, in tutte le sue espressioni, in tutte le sue età, quando noi ci poniamo, ci schieriamo, allora si può creare anche divisione. Ma come non possiamo? Non possiamo, no, davanti a quelle che sono le verità fondamentali della vita e della fede, non schierarci. Ecco, vogliamo chiedere a Gesù veramente la forza della fedeltà alla chiamata del Vangelo. Tutti, a casa, in famiglia, al lavoro, ciascuno di noi ha da vedere tutti i giorni tante situazioni. Anche a scuola i ragazzi fanno fatica a essere, non tutti, ma fanno fatica a essere contenti di Gesù. Magari dentro lo sono, però davanti agli altri si possono vergognare, perché gli altri li prendono un giro. C'è da vergognarsi del male, non dell'amore di Dio. Questo è un inganno del nemico. Ecco, affidiamo al Signore i nostri cammini, il nostro cammino di fede e di amicizia con il Signore, riconoscendo veramente in Gesù il nostro fuoco che ci rigenera e che ci rende perfetti come il Padre Celeste desidera. Maria, Madre delle Grazie, accolga tutte le nostre invocazioni, le nostre preghiere. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.